Dunque Massimo, rispetto a Cascais c'è una evidenza che è sotto gli occhi, basta guardare i risultati di questa settimana per vedere FX Capital davanti in alcune regate, un secondo posto, due quarti di giornata. Qualcosa è cambiato? Sì, sicuramente come detto tu da Cascais è tutta un'altra cosa, siamo arrivati qui in Austria con proprio il desiderio di un riscatto, molto concentrati, sicuramente l'innesto di Francesco Bruni che non ha bisogno di presentazioni ha dato sicuramente un grande supporto al team, lui è stato un tattico dove ha navigato anche in altri team e quindi conosceva molto la barca e quindi le regolazioni, delle manovre che sicuramente si è migliorato molto. Sono molto contento veramente del risultato, come abbiamo detto sempre, per noi quest'anno è sempre, tutti i risultati che facciamo è sempre un ottimo risultato, quindi quest'anno è un anno transitorio e quindi per quello che stiamo facendo e come stanno andando le cose sono abbastanza felice. Tra l'altro il campo di regata di Gmunden ha messo a prova anche la tua sensibilità perché ci sono stati continui cambi di direzione, intensità del vento, insomma un campo di regata molto difficile. Sì sì, tutti mi dicevano, io non ho avuto mai esperienza di navigare sui laghi, che i laghi veramente mettevano a dura prova proprio le capacità del timoniere e quindi dopo io stesso dal primo giorno di allenamento ho capito che qui veramente la concentrazione era la soluzione per poter timonare bene, quindi continui i cambi, rafficone di vento con dopo delle mollane e quindi tutto questo effettivamente penso che sia dal coach che anche dal tattico sono uscito con un 6,5 come risultato, come voto che mi è stato attribuito. Adesso si va verso la Svezia, ci sarà qualche piccolo cambiamento a bordo perché ci sono in piena stagione una moltiplicità di impegni? Sì, è un po' la Svezia il fatto che è una tappa che si compaccia con la regata a Palma, quindi la Coppa del Re, quando così si è messo insieme il team c'erano due elementi che avevano già presi impegni con altre barche. Comunque abbiamo trovato soluzioni di rimpiazzo di gente che ha proprio navigato nell'RC44 e sicuramente arriviamo in Svezia con una squadra abbastanza sempre forte e sempre performante. Siamo a metà della stagione, in conclusione di questa intervista una riflessione sulla classe RC44, è come te l'aspettavi, c'è grande equilibrio, un grande livellamento, tra l'altro mi è sembrato di vedere anche un grande spirito di collaborazione tra gli equipaggi fuori dall'acqua, in banchina, consigli da parte di tutti, insomma c'è uno spirito vero, uno spirito fresco all'interno della classe? Sì, sicuramente la scelta, sono sempre felicissimo di aver fatto questa scelta dell'RC44, devo essere sincero non mi aspettavo questa altissima competizione e come hai detto tu anche questa cordialità fuori il campo di regata, l'organizzazione, quindi è sempre di più, ecco anche ho partecipato a una riunione con un board meeting degli armatori dove nel 2013 si prevedono altri innesti di nuovi armatori che vogliono, quindi è la classe, quindi si mantiene viva e si va sempre in aumento e sempre più competitiva.